Facial Tires Non ho visto la collezione, credo che ci siamo passati oggi Ma direi che passeremo la segna per oggi ancora non ho visto il test Perché il finale del finale del finale Sì, è venuto, certo? Sì, è venuto, e la nuova collezione sarà venuta a presto a noi Quindi è un buon successo di vedere La collezione è stata presentata questa sera, quindi non schiacciare Ma credo che ci sia qualcosa che sia che il nostro lavoro E' quello che ci sia, e lo stiamo cercando di fare qui E credo che la più importante è che la collezione è molto self-expressiva E' quello che si esprime è che Cosa c'è chi c'è, è descritto come si senti quel giorno E' una cosa molto importante La cosa più importante è che, comunque, la moda si autoesprime E qualsiasi cosa che uno indossi, se lo indossi in un certo modo, con quello spirito Riflette sicuramente questo modo Certo, invece vorrei chiedere al signor Payne Senza fare discorsi di etica o cose di questo tipo Però il fatto di aver scelto l'InseloA non è un messaggio così positivo Comunque anche per i problemi che lei ha avuto in passato E mi dispiace, questa è una domanda personale E purtroppo, noi riteniamo che sia una domanda di carattere personale Per cui non vengono accertate in questa sede, mi dispiace No, non è certo Un problema di adorare il risultato, ma è ok Ma è vero, è vero E' vero, è vero Ma è vero Ma, io posso raccontare la risposta Quindi, se non si potre Ciao I think something important to know is that this collection, it's expressing something a little bit more edgy, and I think maybe the people's perception of me is kind of, you know, been taken out of context just from what you see and read. And that might work, I think that's kind of what we're going for with this and I have no problem answering those kind of questions if that's what you're here to ask. Even though it's not very necessary. I don't have any problem answering any questions, even if it's not necessarily necessary. But the main message is that this collection will be something different from what you can do with it. And it will be a message of a grintoso collection. I would like to ask both of you, what is the first memory that is linked or tied to fashion here in my mind? Well, what is the first memory? Well, actually I had always to wear the clothes my mother gave me when I was little. And I remember that I started to hate what she chose me to wear and that I didn't want to wear it. So this was the first memory that I had made in fashion. I remember that when I was little, evidently I was forced to wear the clothes that I chose for me and my mother. And I really hated them. So the first thing was to reach out to me and to be able to wear the clothes that I liked. I was, I was, whenever I went to a clothing store I had to leave with an article of clothing. So my mother wouldn't take me to a clothing store for about two years. So I would ask other mothers in the store. Thank you. To other parents that they wanted. No, but, e lei? Ricordo che ho, soprattutto, che ogni volta che trovi un negozio, un negozio di abbigliamento, di moda, non avrei mai potuto uscirne senza meno alcun però a mio capo. Quindi mia mamma a un certo punto ha deciso che per almeno due anni non mi importava più quindi se volevo qualcosa dovevo cominciare a inventare un po' di arte. Altre domande? Any other questions please? Io volevo chiedere a entrambi qual è il capo che non deve mancare nel guardaroba di una star? Yes. A question to Beth. What is the item that should never, never be absent in the collection, you know, in the wardrobe of a star? I should always give you a must. Well, even a star has to get dressed. At the end of the day everybody has to wear clothes, even a star. So, very difficult. But what is very, very important for a star, I think, is to have beautiful clothes, first of all, because it's a person who's always in the middle of everything. So, beautiful shoes, I think this is something very important, but also beautiful dress. Well, Piretti, comunque, anche una star prima o poi deve vestirsi, quindi deve indossare degli abiti. Perciò direi che la cosa più bella che posso dire è che sicuramente una star deve indossare degli abiti bellissimi, molto appetibili proprio, e soprattutto anche delle bellissime scarpe. Quindi, begli abiti ma anche indossare delle belle scarpe. e una donna normale. E una donna normale. What about the regular normal? What would you suggest? What is the best item? Well, we all have to wear clothes. A good purse. For everybody. Well, obviously we all have to wear clothes. This is in a new studio video. What is the item? Well, I'm not going to be specific, because I'm here. I just think, I think, good shoes and good purse. Ma, direi che comunque, beh, prendendo da presupposto che anche loro ovviamente devono vestirsi tutti quanti, l'accessorio che mi piace più sono borse e scartature, scarte. Avete altre domande? Any other questions? A question is the wrong one. Oh, scusa. Yes, I see you. She's okay. Qual è il dettaglio di moda che più ti rappresenta? Quale scusi? Il dettaglio di fashion che più ti rappresenta. What would you say is the fashion detail that represents you most? What would you say is the fashion detail that represents you most? I think I'm expressive in different ways. it depends on how I'm feeling that day so I can't really describe it by one specific detail I'm just comfortable being myself and whatever I'm feeling at that time so I wanted to ask do you actually manage to express your emotions through your dresses and your clothing you mean in general yeah in general I wouldn't I wouldn't be wearing things that I wouldn't feel comfortable wearing I think I think I'm very eclectic sometimes with the things that I choose to wear turns on the place I am in New York I'd like to dress up more and be a little bit more glamorous and in Los Angeles I don't really care as much and especially when I'm traveling it's just nice there's just certain times in certain aspects of you know how I decide what I'm going to wear what kind of mood I'm in the changes all the time I change every time and in every case I'm also very eclectic of the choice of the type of clothing even though I'm in New York I want to dress up in a certain way I want to dress up in a certain way I want to dress up in a certain way I want to dress up in a certain way my transportation also helps me to wear a pair of jeans and that's what I want to wear I want to wear a pair of jeans any other questions to come? I'm slow and you've been super a little character in a period of my life Do you think a campaign for Mr. Plain will get you back on the calendar again? I'm sorry, what was that? I was saying that you've been through a very turbulent period in your life, from what I read. Do you think that being the face of Mr. Plain will get you back on the calendar again? I think that everyone goes through ups and downs in their life and that's an important thing for people to teach you to grow and I think that it's me that has to give you back to where I want to be and that's being diligent and focused. I think that in life there are, for all of us, high and low, the most important thing is to grow, to be myself. And I'm sure that in this moment I'm very focused. And I think it's also people like Philip that are, you know, still believing in me and what I do and see that I have, you know, people grow up and I think that's a real honor for him to notice that. And not only, but also the figure of Philip that helps me a lot because the fact that Philip has believed in me and that he believes in me and that he believes in the fact that people, and all of us, and all of us, that's the most important thing. Well, everybody has ups and downs in this life and that's for everybody. I don't think there's anybody here who can, who can, who can, who can say that. But I don't think this has anything to do with me choosing her. I'm not at all interested in gossip or whatever. I don't even follow what's going on in any celebrity's life. So I choose her because I really think she's a beautiful woman and she represents the image of the brand in a very good way. So... I don't think that I'm interested in that everybody and all of us who have high and low moments in our lives of people and so on, is it something that all of us can't make this. I don't interest any form of gossip or what happens in our lives of people in our lives and this has nothing to do with the choice of this person that I also chose because it is not only one of the beautiful people from every point of view ma anche perchè è quella che meglio rappresenta l'immagine del brand. Un'altra cosa che appunto vorrei sottolineare, molto interessante quello che ha detto perché questo dimostra ancora una volta che magari a volte si dà troppo credito a quello che si legge, che al 90% non è mai vero. E anche io credo che le persone diventano umani. Se hai un'immagrazione, anche se sei un grande celebre, se sei un grande star. Sei un'immagrazione, hai sentimenti, hai buoni giorni, hai buoni giorni, non sei perfetto, nessuno è perfetto. Quindi credo che le persone diventano più vicino e più simpatici. Ma direi che non dimentichiamo che anche una celebrity, una persona, una star, una persona molto famosa, tutto sommato è sempre comunque umane, come tutte le persone umane ha dei sentimenti, dei momenti migliori, dei momenti peggiori e quindi questo lo rende ancora più simpatica volendo. Credo che abbiamo ancora forse il tempo per una domanda se ne avete proprio una velocissima e poi dobbiamo chiudere. Allora abbiamo un po' di due minuti, ma anche per un'additional questione, se nemmeno. E poi avremo a cercare la conferenza. quattro i giorni è un po' di due minuti? Quattro i giorni è un po' di due minuti? Che non va dai. Che non va dai. Ha qualche progetto nel cinema? I do, and they're currently being handled this week, so you will know soon. And I must keep some secrets to myself. Ok, grazie mille, allora chiediamo un'altra cittadina stampa, grazie a tutti. Grazie.